Poi cominciarono a scavare altre groppe e a costruire, con gli materiali che prendevano dallo scavo di questi ambienti, quindi ci sono tre piccoli puntati di sasso, le groppe sono quelle più semplici come struttura e architettura anche più architettamente, poi ci sono gli amioni, ambienti costruiti per la volta a bolle e la costruzione di celle a partire dalla fine del 2600, contemporaneamente, cominciò a svilupparsi anche la materia del piano, tutta la materia pianeggiata, quindi qui cominciarono a costruire, costruirano un caso nuove, i palazzi nuovi, buttavano sotto il materiale di scarco e ricopriero anche una parte dei sassi, e di noi c'è la continuazione del sasso in Barisarro. Questo campanile è in direzione della chiesa Kesson, la chiesa è a palazzo, e se passano in palazzo un'altra, poi c'è anche loro probabilmente questo campanile perché dalla piazza nella parte è alta, si vede la stella oltre, che è il simbolo che sta all'interno, che è il simbolo che sta all'interno, che si può vedere sulla piazza. Grazie. 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 Grazie.